Oggi sono due palle, quali scelgo? Quella del Napoli o quella arancione? Vabbè, mi piglio questa del Napoli perché mi piace il Napoli. Però io prima l'ho visto un bambino stia da rotelle che voleva giocare a pallone. Un fratello e una sorella che si tenevano con il mano mentre si organizzavano a giocare a pallone. Mia nonna vuole giocare a pallone. Sfida è possibile. Sfida è possibile, tutti uguali. Siamo stessi diritti e fratellanza. Forza, siamo pirati dei Caraibi e vinceremo. Sfida è possibile, tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.